E torniamo nuovamente insieme, come promesso anche oggi all'interno della rubrica Un frate per amico una nuova storia di vocazione. Abbiamo avuto ospite già ieri fra Timotio nella presentazione di quello che è il terzo ordine francescano, essendo lui assistente dell'OFS locale. Lo abbiamo visto anche in questi giorni durante il tridue in preparazione alla festa di Santa Elisabetta. Ieri il giorno della festa e la grande gioia dei tanti francescani che hanno potuto partecipare alla celebrazione eucaristica proprio in occasione della festa di Santa Elisabetta. Ma quest'oggi ospite appunto di un frate per amico, Frattimotio, per raccontarci la sua vocazione. Come nasce la vocazione e chi era Frattimotio Bambino? Frattimotio Bambino era da Dario Francesco Saverio, contadinello, figlio di contadini, famiglia numerosa, 13 figli, molto religiosi, tutt'oggi siamo tutti molto praticanti, anche i miei fratelli, sorelle, abbastanza anche i nipoti. Il tuo paese di origine? Limosano, provincia di Campobasso, un paesello di mille abitanti, quindi piccolo. Piccolo, sì. E di grande emigrazione, la maggior parte dei miei coetanei sono in Canada o dispersi comunque per il mondo. E diciamo che vado in seminario perché papà lo faceva a tutti questa proposta, ci teneva che avesse un figlio sacerdote. Lui diceva io mi farei anche studiare perché anche questo papà ci teneva alla cultura, anche se lui aveva solo la seconda elementare. Però diceva io non vi posso mandare perché non ho i soldi, in seminario la retta è limitata, quindi. Ma io ci sono andato in realtà perché comunque mi affascinava la figura del sacerdote, del frate. C'era il padre Buonaventura San Giovanni Rotondo che veniva sempre a Limosano e ci teneva sempre molto allegri, era un padre molto vivace. Sì, dinamico, era molto ben voluto sia dai ragazzi che dalle persone adulte a Limosano e anche nei paesi d'intorni. Bene merito padre Buonaventura per quelle zone. E poi c'avevo tanti amici parenti, anche sacerdote, avevo un paio di cugini già sacerdoti, quindi diciamo il pensierino ce l'ho fatto. E sono partito per il seminario, i primi tre anni a San Severo. Comunque la vocazione… Ma il seminario diocesano o… Diocesano, seminario serafico, capuccino. Ah già, dei capuccini. Dei capuccini. Perciò proprio quella figura ti ha affascinato e ti ha accompagnato. Eh sì, padre Buonaventura ma… Ti ha indirizzato. Io sinceramente avevo pensato di andare in seminario a Benevento. Ah ecco. E invece padre Buonaventura mi ha portato con sé. In tre capuccini. E non me lo sono pentito. E niente, la vocazione purtroppo non è come dire una lettera di richiamo che il Signore ti fa. Il Signore ti mette davanti la vita e ti dà anche dei segni per capire quale deve essere la tua vita. A me ha messo dei segni, quali sono quelli di una famiglia religiosa, di un certo fascino per il sacerdozio. Poi in seminario ho coltivato molto l'ideale missionario. Mi sono letto tutte le avventure missionarie di un autore allora famoso, Testori si chiamava. Ho fatto decine e decine di racconti avventurosi dei missionari nelle varie zone. E quello mi ha creato molta passione per i missionari. Io quando vedevo un missionario mi si riempivano gli occhi di gioia. Tanto è vero che quando ho preso messa ho fatto subito la richiesta di andare in missione. Padre Pietro Tartaglia che era il direttore di Campobasso se lo tenne per sé. Poi parlò col mio medico curante, avevo problemi di salute e lo strappò. Me lo disse dopo sei mesi quando gli andai a dire è la mia domanda che fino ha fatto. Non ti devi arrabbiare, l'ho strappata. Però me l'ha detto il tuo medico che lo riconosceva molto bene. E vabbè è così è cominciato poi. Sei stato però sempre affascinato dalla parte di un seminario. Come in ogni vocazione non è che è bastato la spinta iniziale. Poi si cresce. Poi si arriva al momento drammatico della scelta definitiva. E io ho avuto dei momenti molto sofferti. Stavamo pari all'epoca per la mia scelta. Perché quando arrivi ai 18-20 anni allora fai la vera scelta. Anche se in seminario ci stai da prima. Non condiziona niente. E quindi sono stato anche lì per lì per sganciare. Sganciare. Direi quasi per un miracolo. E devo anche dire che da allora poi non ho avuto mai più crisi. Non ho avuto mai più pendimenti della mia scelta. Che ho sempre cercato di seguire con grande entusiasmo. E direi anche con un bel po' di orgoglio. Ecco fratimotio tu parlavi del tuo papà. Di come ha voluto proporvi questo cammino. Alla tua scelta la tua famiglia era immagino come hai già detto molto felice. Beh certo. Ti ha accompagnato in questa scelta. Quando ho dato dei segni diciamo così di crisi sono rimasti un po' preoccupati. Me l'ha detto dopo. Eh certo. Però poi anche con l'aiuto di mio fratello l'ho superata. Perché la mia famiglia è stata sempre vicina. Mio fratello più grande e mi è stato molto vicino in modo particolare. E mi ha aiutato anche a superare quel momento. Più logicamente i direttori spirituali, i compagni. I compagni un po' meno perché i compagni si sa che si trovano nella stessa barca. In genere non ci sta questa domenica. Le difficoltà. Ecco sono le stesse quindi ha ben poco uno da dare a un compagno. Però i padri spirituali. Sì i padri spirituali certamente mi ha aiutato. I direttori in quell'epoca stavano a Bari quindi c'era un po' di distacco un po' meno. Certo. Però grazie a Dio sono qua. Sono qua. Ho avuto anche problemi di salute prima di prendere la messa. Tant'è vero che io ho servito la messa a padre Pio per 3-4 volte. Ed era l'occasione in cui venivo in ospedale. A casa sulleva. All'epoca non c'era la mutua e noi dovevamo pagare e noi eravamo poveri all'epoca. I soldi non avevamo per l'ospedale. Però qui a San Giovanni ci applicavano le stelline come ai poveri. E quindi per queste stelline venivo qui 2-3 volte prima della messa soprattutto che a ricoverarmi in ospedale. E sei stato accanto a padre Pio. E sono stato accanto a padre Pio. Io la mattina mi alzavo presto, nel periodo in cui uscivo, entravo e restavo in gommento qualche giorno, per servire la messa a padre Pio. Una delle ultime volte prima di prendere la messa, se non vado errato, facevo la terza teologia, mi diagnosticarono, ma non me lo dissero. Però capì che i medici erano un po' preoccupati. E erano soprattutto resti a dirmelo. E allora questo mi mise in allarme. Poi captai qualche mezza parola da qualche medico e capì di aver la leucemia. All'epoca non c'era rimedio. Io lo sapevo benissimo. E quando sono uscito dall'ospedale sono andato in convento e dopo pranzo me ne sono andato in chiesa, nella chiesa nuova. E lì in coro mi sono seduto di fronte alla Madonna e pregavo. Ma più che pregavo, piangevo. Certo. Mi commuovo ancora adesso, come vedete. Perché forse non arrivo neppure a prendere la messa. E la messa. Per la messa, 67. Eh sì, 67. Se dovrebbe essere 66 o 67. Non mi ricordo l'anno preciso. Padre Pio passò senza niente. Poi arrivò vicino alla porta, si girò di scatto e poi disse, guaglione, non ti preoccupare. Io per la verità, lì per lì, mi sono ormai sorpreso che avesse tu. Ho pensato che ci fosse qualche altro. Non ho visto nessuno, però non ci sono dato neanche tanto peso. Perché chissà, forse l'avevo col compagno. È accanto. Perché ripeto, ma purtroppo i santi fanno così. È un po' come Dio. Dio ti manda i segni ma li devi scoprire. E capire. Non sono ormai, perché vuole un atto di fede. Ti devi affidare. Perché se ti affidi, ti dà tutte le indicazioni chiare. Ma se tu sei restio, egli ti manda solo dei segni che, se tu vuoi, poi li capisci. Se no, resta così. Non ti condiziona, è Dio, nelle tue scelte. E i santi fanno così. Con molti altri, Padre Pio faceva così. Lanciava la frase per dire, abbi fede, ma poi lui faceva il miracolo. E oggi sono ancora qui. Eccomi qua, dopo tante peripezie anche di salute, ancora con tanta voglia di lavorare nella vigna del Signore. Tu ricordi benissimo quella frase, ti è rimasta, ti ha caratterizzato quella tua vita. Ti sei... L'ho metabolizzato piano piano. Perché, ripeto, lì per lì non gli ho dato peso. Mi fosse sembrato che non ce l'avesse con me. Ecco, lui si è preoccupato della tua preoccupazione, dicendoti di avere fede e di stare tranquillo. Ma no, ma adesso voglio, non ti preoccupare, essere andato. Questo è il ricordo più bello che tu hai di Padre Pio. Eh certo, il ricordo più bello. Poi ho servito la messa e quando servivo la messa restavo ingandato, come lui recitava il canone. Perché fino al canone la messa era per sé che normale, come gli altri la diceva. Quando arrivava alla consacrazione si trasformava. Il suo viso prendeva degli atteggiamenti e delle conformazioni. Sembianze. Alle volte restava fisso nel vuoto, così, con gli occhi fissi nel vuoto, come se fosse ingandato. Altre volte invece piangeva con forti singhiozzi. Altre volte invece gli si arrossavano gli occhi e aveva tutto il volto come stravolto, trasformato. E con molta lentezza pronunciava le parole della consacrazione. E ci metteva tempo, oltre dieci, un quarto d'ora per arrivare alla fine. E intanto la chiesa zeppa così, alle cinque del mattino, e non si sentiva volare una mosca. Il momento in cui il padre Pio viveva il sacrificio della croce. Era in modo di dire solare la cosa, era evidentissima. Era evidente. Sì, sì. E questo è il ricordo che ho di padre Pio. nient'altro. Ecco, poi la tua vita è continuata, poi hai deciso appunto di... Ho preso la messa. Che cosa ti affascinava di più di San Francesco, padre Timotio? La scelta di diventare cappuccino anche per il suo collatore? L'ideale francescano era un po' soffuso. Un po' perché... Ecco, per esempio, quello missionario... Era chiaro. Come devo dire, era più identificabile, focalizzabile. Quello francescano è un po' più universale. Però man mano che è passato il tempo, me ne sono affascinato sempre di più. Oggi ti direi che senza San Francesco non ci saprei stare. Cioè, non vorrei... Perché il messaggio di San Francesco è talmente bello. Talmente attuale. Talmente alto. È talmente attuale che non mi ci ritroverei. Non ritroverei me stesso se non fossi francescano. Certo. E negli anni, oltre alla figura di padre Pio, di San Francesco, c'è stato anche una persona vivente, qualcuno che ha caratterizzato la tua vocazione e poi che ti ha accompagnato. Sono state tante persone che non mi hanno favorito perché magari anche educatori con metodi non condivisibili, oggi almeno, oppure che avessero poca fiducia o stima di me. Però ho avuto anche tante persone che mi hanno aiutato, tra cui principalmente padre Matteo Grifa, il mio maestro dei novizi, che mi ha salvato proprio nella vocazione, nel primo momento di crisi appena al noviziato. Padre Matteo era una persona di un'intelligenza fuori del comune. Penso che pochi... Per catalogare l'intelligenza di padre Matteo dovremmo andare, non so, a Pico della Mirandola, a Leonardo da Vinci, perché aveva un'intelligenza eclettica, direi quasi totale, sul piano teorico, intuitivo e filosofico. Sul piano pratica era una frana. Lui diceva, io non sono buono neppure a spazzare, a prendere la scopa in mano. Ed era vero, si imbappinava. Diceva, io non so dove sta il do sull'armonium. Però sapeva tutto della composizione, dell'armonizzazione, eccetera, a memoria. Ci faceva le lezioni di spiritualità, leggendo il Vangelo, ce lo diceva prima in greco e poi in latino. Lo sapeva tutto a memoria. E poi aveva un cuore grande così. Qualche volte il genere era molto austero, molto severo, però quando ti abbracciava ti faceva sentire tutto il calore del suo cuore grande. E io l'ho voluto per, come si dice, il padre della prima messa, c'è un sacerdote che non ci accompagnava. Che nell'omelia? No, che ci accompagnava nella prima messa. Ah, per la prima messa. Si chiamava padrino della prima messa. Padrino della prima messa. E tu hai scelto lui. E lui mi ha dato questo onore. Tu hai scelto lui. Poi il padre Matteo, quando stavamo in provincia di Bari, lui ci scriveva delle lettere. Io le ho tutte copiate, quelle lettere. Perché sono straordinarie. Ce le hai tutte conservate. Sì, sono tutte conservate. Ecco, padre Timoteo, tu prima parlavi del fascino di San Francesco, un po' ne abbiamo parlato ieri. Tu hai continuato nei tuoi tanti anni di sacerdozio, di ministero, proprio a voler suscitare sia vocazioni, sia vocazioni religiose, sia poi vocazioni laicali all'interno del terzo ordine. Questo è stato sempre una tua caratteristica. Ecco, io ricordo da piccolina, lo confessiamo, ti conosco da un po' di anni. Ricordo, piccolina, quando ti incontravo, eri a Vico del Gargano, e avevi già questo, per me, insomma, io ti vedevo come una persona da questo grande carisma, di trasmettere agli altri l'amore francescano, il carisma francescano. Io ho lavorato, sin da più, i primi tre anni a San Severo, nella nostra parrocchia della Madonna delle Grazie, e ho permesso a lavorare con i giovani, e abbiamo lavorato così, avevo tanti di quei giovani, che hanno segnato la vita mia, e loro poi mi dicono che io ho segnato la vita loro. Perché poi ho continuato a fare i catechisti, una volta adulti, i figli hanno fatto, diciamo, delle famiglie intere, tra cui tra l'altro molti sono sposati tra di loro, perché avevo un gruppo di oltre 150 giovani, le male lingue dicevano che era l'associazione dei fidanzati, perché molti sono fidanzati tra di loro, e io rispondevo, volesse il cielo, perché se riuscisse a dare dieci famiglie ben formate a San Severo, ho salvato il paese, ne ho date di più per la verità, grazie a Dio, logicamente, merito suo, non mio, però mi ha passato subito dai giovani, ho sempre lavorato con i giovani, dopo San Severo feci un'esperienza interessantissima, in una casa di rieducazione, a Isernia, nella più opera dei Vincenzi, dove mi dedicai a questi ragazzi che provenivano da Grazie Giustizia, quindi tutti con problemi, ma poi a parte i problemi di giustizia, avevano dei problemi umani alle spalle, spaventosi, e lì insieme a degli educatori abbiamo fatto riscoprire la passione dell'educazione, non quella di essere i guardiani, se continui, e questi ragazzi, ho portato un'associazione di ragazzi e ragazze a stare con loro, per vincere l'isolamento, e io avevo garantito al direttore che se mi lasciava fare avrei recuperato l'80% di quei ragazzi, tranquillamente, io li menavo perché non sono angioletti, all'epoca si poteva ancora menare, perché non scherzavano, erano situazioni dure, non hanno mai reagito, mentre con gli altri reagivano, con me non hanno mai reagito, perché avevano capito che io li volevo bene, sono rimasto, il fatto di quel calore umano che all'uchiloro mancava, quando me ne sono andato, mi ricordo, porto sempre nella mente l'abbraccio di quei ragazzi, che ripeto, non erano i migliori, ma avevano una grande carenza di affetto, di affetto, una solitudine interna che sicuramente è un peccato che l'ho potuto fare solo per sei mesi, pochissimo, pochissimo tempo, poi mi hanno cambiato un'altra volta e mi hanno mandato a Termoli, ad aprire il convento di Termoli, San Timotio sta a Termoli, anche questo è un segno, ecco, e tu sei stato il primo ad arrivare a Termoli, il primo frate destinato a Termoli, l'anno dopo fecero la comunità con padre Leonardo, fra Leonardo e il sottoscritto, e poi il tuo cammino, e poi il mio cammino ha continuato nel convento di Laurino, come superiore, per sei anni sono stato il superiore più giovane della provincia, con la comunità più vecchia, perché avevo con me fra Leonardo, che teneva 74-75 anni, padre Aurelio, che ne aveva 74-75, e padre Raffaele D'Addario, che ne aveva già 80. Tu eri il guardiano giovane. Ed io ero un ragazzino con loro, però sono riuscito a farmi benvolere anche da loro, grazie a Dio, anche se all'inizio c'è stata una certa difficoltà d'intesa, perché io non volevo rinunciare ad essere quello che sono, e quindi neppure la mia gioventù, e l'anziano invece, in gestione una volta, non vedevano tanto di buon occhio certe manifestazioni giovanili, però alla fine anche loro sono stati contenti. Ecco, forse l'intuizione di Francesco di far vivere i frati all'interno della fraternità è l'intuizione più bella e più... È quello che ha, diciamo, ha cambiato la vita religiosa all'interno della Chiesa. Anche se l'aspetto forse è anche più difficile, perché i fratelli non li scegli. Certamente è la cosa più difficile, però la ricchezza... Quello che ti dà... D'altra parte è solo... è nella linea della incarnazione, cioè i figli di Dio devono avere anche una famiglia umana, un rapporto umano. Gesù ha creato la Chiesa, che è il segno più evidente di questa volontà di Dio di sentirli come figli di una famiglia. San Francesco, ha voluto creare un ordine di fratelli, perché però fossero sempre... si considerassero sempre tali. Perché fossero tali? Ha detto fratelli liberi non esistono, esistono solo fratelli in una comunità. Certo. E li voleva sempre andare a due a due, mai da solo. Sempre a due a due, proprio per questo segno di una comunione di vita con altri che condividono l'ideale. L'ideale. Francesco sapeva che era difficile, ma proprio per questo era la cosa, come devo dire, la sfida migliore, ma che una volta riuscì effettivamente... È una ricchezza unica. È una ricchezza straordinaria. Io credo molto nella fraternità, anche se sa, con la vecchiai si diventa un pochino più distaccati, più... però io ci credo molto in questo. Ecco, oggi la tua vita da frate è qui a San Giovanni Rotondo, con un altro incarico molto delicato. Una scelta che non ho condiviso, ma che ho accettato per obbedienza. E ti porta ad essere vicino alle persone sofferenti. E questa è un'altra di quelle esperienze che... Forti. Forti, sì, perché è anche molto, molto dura e molto faticosa, sia sul piano, soprattutto sul piano psicologico, perché condividere... Perché tu non puoi andare, almeno io non sono capace, di andare vicino il letto di un ammalato che magari è terminale, e dici tu coraggio, non ti preoccupare che vedrai che guarirai. Io non riesco a dire queste bugie. Però ci devi andare e devo, non mettergli un segno di speranza. E questo è molto, molto faticoso, ma è anche molto rischioso. perché non sai la tua persona. No, perché purtroppo l'unica base con cui puoi basare una parola di speranza è quella di Cristo, quella di Cristo che ci associa alla sua passione. Alla sua sofferenza. ma non tutti hanno questa consapevolezza anche come cristiani di essere in quel momento associata alla passione di Cristo. Quindi bisogna trovare le parole giuste che è sempre una gran fatica. Io per la verità ho direi che buoni risultati, anche se è un lavoro molto all'interno, molto fermo, sono abituato a generare lavori molto dinamici, molto di movimento. Di movimento, ecco. E questo mi ha portato una certa fatica all'adattamento. Però sinceramente ho ottenuto anche qualche buon risultato. Mi rendo conto che forse è un compito al di sopra delle mie forze o almeno delle mie caratteristiche. Mi sforzo di fare del mio meglio. Con l'aiuto del Signore, naturalmente. Ma è certe volte effettivamente è dura. Ecco, fratimoteo, noi al termine di questa chiacchierata solitamente chiediamo ai frati di lanciare un messaggio sia ai giovani che sono in ricerca vocazionale e anche alle famiglie. Qual è il tuo messaggio oggi? Il messaggio è che la fede in Dio è un bene straordinario che aiuta a risolvere e se non a risolvere a prendere consapevolezza e farsene una ragione di tutti i problemi della vita sia nelle famiglie e sia nelle singole persone. Senza la fede la nostra vita diventa un assurdo perché per la maggior parte di noi non è una vita da invidiare tutt'altro. Magari città qualcuno che diciamo chi comanda chi è ricco a parte che anche loro non sono felici ma sono pochi la maggior parte di noi non ha una vita invidiabile se non ha questa speranza se non ha questa fede la sua vita non ha senso non ha senso e allora è ovvio che io direi teneteci alla vostra fede ai giovani non gettate alle ortiche la fede che avete ricevuto con il battesimo prima di gettarla prendetela sul serio perché la fede è una cosa è un po' come l'amore non basta crederci o non basta tentare bisogna amare e dal momento in cui amo ti accorgi quando è bella la vita quando è ricca la vita di cose belle perché l'amore tinge tutto di rosa diciamo tutto di bello oggi purtroppo per questo tipo di società relativistica che ormai è dilagante i giovani non sentono più i richiami degli ideali che partono dal di dentro fanno sempre diritto agli ideali esterni potere beni sesso e quello purtroppo non li arricchisce anzi li rende sempre più aridi e vuoti e quindi infelici tutto considerato allora San Francesco questo lo esprime al massimo grado ma con una originalità che è tutta sua da quello di chiamare tutte sorelle sentirsi nel creato circondato da una natura che non solo c'è amica ma che c'è fratella e sorella è il nostro nido per cui lo dobbiamo rispettare ma non idolatrarlo oggi i naturisti idolatriano la natura ma non è quello il senso francescano del rispetto dell'amore alla natura perché lo francescano è molto più alto molto più nobile e poi San Francesco ha la capacità di prendere l'uomo come Cristo per quello che è San Francesco non abbraccia la persona perché è brava abbraccia perché è un uomo come come si è fatto uomo Cristo abbraccia il lebroso non perché gli piace la lebra ma perché nonostante la lebra riesce a vederci il volto di Cristo e questa è la cosa di cui avremo bisogno maggiormente oggi dove abbiamo sì molte volte il rispetto dei diritti ma non abbiamo i segni di amore allora la fede ci potrebbe ridare tutto questo è una società che ha i diritti che ha anche tanti beni se ci fosse anche l'amore sarebbe anche un piccolo paradiso in terra ma è quella a cui noi ci dobbiamo tentare che io fra l'altro ho fatto anche esperienza scout sì ho fatto per 15 anni assistente scout per 8 anni ho fatto l'assistente regionale del Molise degli scout ho fatto un ottimo lavoro anche lì l'abbiamo portato all'attenzione per crescita e per qualità dei responsabili nazionali è stato un bel momento quello dello scoutismo nazionale e diceva a BP il padre Powell il fondatore io non devo salvare il mondo però lo devo lasciare un pochino migliore di come l'ho trovato ed è un po' quello che il messaggio il tuo messaggio una goccia di bene è sempre un fatto positivo che toglie una goccia di male bene fratimotio io ti ringrazio a nome dei telespettatori perché sicuramente queste parole entrano nel cuore soprattutto anche a coloro che stanno vivendo anche dei problemi o delle situazioni difficili anche nella loro famiglia nella loro vita e poi ti ringrazio perché ci hai aperto il cuore quest'oggi a quelli che sono i tuoi ricordi più lontani ma anche molto presenti all'interno della tua vita grazie grazie un saluto un saluto a tutti i telespettatori a cui do come dire come parola di speranza quelli saluti San Francesco pace e bene pace e bene padre Timotio grazie e noi ci fermiamo per dare spazio alla diretta continuiamo con Di giorno in giorno grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti